Incredibile ragazzi quello che è accaduto in Ligue 2 nell'ultima giornata tra Bordeaux e Rodet. La squadra ospite segna con Boadet e quando va ad esultare viene spintonato da un tifoso della squadra locale. Il tifoso è entrato indebitamente sul terreno di gioco e per terra vanno ben due giocatori. Boadet sbatte male la testa sul terreno e viene subito soccorso dai sanitari. Il giocatore viene subito trasportato in ospedale e la gara viene addirittura sospesa.